ok ciao ragazzi oggi faremo guardie e ladri allora chi vuole fare la guardia io io ok allora io andrò in giro per la prigione e voi spawnate dalle celle andate nelle celle voi di qua no ho sbagliato di qua no venite ok va ma vai andate nelle celle voi non vi dovete far vedere da me o mi dovete uccidere o non mi dovete far vedere cioè non vi dovete far vedere voi dovete andare all'ultimo cioè al penultimo piano ah no qua qua c'è una cella qui c'è una cella siete nelle celle ok allora vediamo un po voi potete uscire ok facciamo che io devo fare cinque kill quante basta cioè noi dobbiamo cercare di ucciderti e poi dobbiamo andare eh ma se io vi uccido eh dobbiamo fare ok però c'è il senso di cercare di non distruggere la parte ok in quale c'è la vado e in quale c'è la vado e in quale c'è la vado ok ma voi avete iniziato ok potete muovervi eh io sono molto aperta io sono molto aperta io sono la cella peggiore e via non cominciamo uno è morto ma io posso anche rientrare adesso pure l'altro si rifà voi per non farvi sentire dovete camminare snichi snichi secondo si allora io vengo da voi vado all'entrata io io devo entrare nella prigione voi dovete stare in cella ok si ma io voglio andare per mangia monsta mangia monsta dove stai? eh terzo e quinto quindi però anch'io posso fare lo zozzo e mettermi snichi snichi ok io sto al terzo piano aspetta dobbiamo incominciare tu stai dal secondo piano il terzo piano è questo ok 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 andate eh vabbè tu sai dove siamo eh cambiatevi di cella ok no no posso andare ok ok no perché si dove caricare il muro se no poi vedete lo so ah mh manca pochissimo manca pochissimo manca pochissimo è caricato è caricato non è fatto fatto? si fatto fatto si ma siete almeno in una cella? si ok ok una è morta uno è morto nooo ho perso raga ma avete bucato la prigione no ma proprio avete bucato allora ora io faccio io e qualcun altro facciamo quelli ladri ok allora noi ci nascondiamo vieni 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 qua 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 vieni vieni con me vieni vai via via qua 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 vieni vieni si ci siamo puoi pure andare sicuramente in quale si perché hai visto no si capisce si abbiamo vinto ok dobbiamo cambiare ma tu ti sei portato 50 vabbè dobbiamo cambiare vieni qua 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 sii noi siamo pronti ma come fai scusa come sapere dove siamo allora vieni qua vieni qua lui non ha capito con chi ce l'ha a che fare secondo va bene o dai sa già dove c'è dove siamo ecco vedi sta sopra di noi puoi andare fermo fermo non cambiare arma che sente non cambiare arma sente fermo fermo anche questo qua è l'ultimo no si vabbè concludo il video spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi ciao 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 ciao